Luca Ranieri dopo la sosta d'inizio anno siete ripartiti con un grande spirito che vi ha portato ad ottenere prima la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo poi i tre punti con la Reggiana in campionato ti aspettavi una ripartenza così forte ma guarda siamo partiti veramente molto forte molto concentrati e siamo felici di questa cosa abbiamo fatto due grandissime partite la prima contro il Sassuolo è stata una bellissima partita una vittoria più che meritata siamo stati felici di questo grandissimo traguardo e invece per la partita di campionato anche lì non era facile perché arriviamo da una bella vittoria contro il Sassuolo ma non abbiamo perso la testa ci siamo sempre concentrati abbiamo fatto una bella vittoria anche lì contro la Reggiana ecco tornando proprio alla gara di lunedì avete dato prova di grande solidità e sicurezza è emersa in diverse occasioni anche la tua personalità quando sei uscito palla al piede dalla linea difensiva per avviare la manovra no sì sì parliamo delle partite anche di campionato di coppa abbiamo fatto sì tutte e due delle grandissime prestazioni e sì ogni tanto io mi spingo in avanti perché mi piace spingermi l'ho sempre fatto nelle giovani il terzino quindi spingevo un po' di più quindi quando ne ho occasione mi piace portare avanti la palla e cercare di creare le più occasioni possibili per te si tratta di una stagione importante in cui hai dimostrato una grande crescita dall'inizio del campionato se dovessi analizzare il tuo percorso in Biancazzurro fino ad oggi sotto quali punti di vista ti senti migliorato maggiormente? Sicuramente stare qua in questa società così importante è un grande motivo d'orgoglio e bisogna dimostrare giorno dopo giorno di poterci stare perché è una grandissima piazza ed è bello stare qua mi sento cresciuto molto da inizio anno in tanti aspetti soprattutto quello della concentrazione sono più attento durante i 90 minuti e per il resto c'è sempre da migliorare tutto e bisogna lavorare giorno dopo giorno per migliorarsi Luca passiamo ora alle domande che si sono arrivate per te dai nostri tifosi via social hai parlato prima di concentrazione, del fatto che hai migliorato la tua concentrazione dall'inizio di questa stagione e Paola invece ti chiede cosa provi ogni volta che scendi in campo e come ti prepari psicologicamente? Ma ogni volta che scendo in campo per me è una delle emozioni più belle di tutte perché io amo fare questo lavoro, questo sport, io lo amo veramente non vedo l'ora che sia sempre domenica per poter giocare e dimostrare quanto valgo io personalmente e quanto valiamo di squadra, perciò è un'emozione incredibile e preparo sinceramente non ci penso, penso sempre alla partita non ci penso non gli do tanto peso, mi concentro sempre due orette, tre orette prima alla partita il resto penso a stare tranquillo Passiamo ora alla domanda di Federico che proprio in tema di emozioni ti chiede qual è stata la più grande emozione della tua carriera fino a questo momento? Fino a questo momento diciamo che sono ancora abbastanza giovane quindi non è che abbia fatto tante cose però una cosa che veramente mi ha emozionato oltre alla salvezza l'anno scorso e tutte queste cose è stato il mondiale per me nazionale di due anni fa, il mondiale under 20 è stata un'emozione indescrivibile purtroppo è andata come è andata però abbiamo fatto tanto e siamo felici di questo E continuiamo appunto a parlare della tua esperienza in azzurro con la domanda che ci arriva da Luca perché hai indossato più volte la maglia dell'Italia nelle nazionali giovanili e appunto Luca ti chiede quanto ti ha dato questa esperienza? Sì, vestire la maglia azzura vuol dire rappresentare un intero paese anche se si parla di settore giovanile non di prima squadra però è sempre un'emozione unica e la nazionale dà tanto perché ti fa giocare contro altri ragazzi di altre nazioni quindi ti proietta in altri aspetti calcistici ed è veramente bello Luca ritorniamo a parlare del campionato perché siamo già entrati nel vivo della settimana che porterà alla gara in trasferta contro la Cremonese come cercherete di affrontare questo match? Sicuramente contro la Cremonese anche quella sarà una partita fondamentale per il nostro percorso perché sarà una partita importante dove noi cercheremo di interpretare al meglio e di portare a casa i tre punti E dopo l'impegno di campionato arriverà la gara di Coppa Italia contro la Juventus per i quarti di finale È difficile non pensare anche alla partita in Coppa Italia contro la Juventus perché giocheremo contro una delle squadre più forti d'Italia quindi sarà una grande soddisfazione che ci siamo meritati siamo molto felici però adesso dobbiamo pensare alla Cremonese a portare a casa i tre punti e poi penseremo alla Coppa Italia Para ragazzo a guardare cominciamo allahè la Cremonese Grazie a tutti Allahè Grazie a tutti.